Buongiorno a tutti, sono Monica Savio e mi occupo di comunicazione istituzionale e di persone all'interno del gruppo Selleroyal, un gruppo che ha i reporter in provincia di Vicenza ma ha sedi e personale in tutto il mondo, che si occupa di componenti, prodotti e accessoristica per il mondo della vicinità, con diversi marchi, tra cui l'omonimo Selleroyal, Fisic, Brunsingland, Crack Grabbers e Penedled. Nel convegno Wildfield, che si terrà a Padova al 31 gennaio del 2020, presenteremo il nostro amico aziendale e di come il gruppo Selleroyal, attraverso le sue multidimensionalità, ha visto nell'impostazione di un piano di benessere organizzativo comunicato all'interno del gruppo, una piattaforma per attivare la leadership delle proprie persone, perché attraverso il supporto, la partecipazione e il commitment di loro, si è riusciti a creare qualcosa di realmente condiviso, di concreto e aderente alle necessità di benessere di tutte le persone. Parleremo del nostro progetto di responsabilità sociale di impresa, che appunto è la piattaforma principale di comunicazione interna e di ingaggio dei dipendenti e delle attività macro che sono state sviluppate nell'ambito delle persone, ma non solo delle persone, anche nell'ambito del pianeta e della partecipazione sociale e civile dell'azienda. Perché essere presenti? Perché sicuramente sarà un'occasione di scambio tra le aziende, tra i professionisti, non solo del settore in ciare, ma anche del settore della comunicazione istituzionale e perché questo chiaramente è uno dei casi che saranno presentati durante il convegno, ma sarà senz'altro interessante riuscire a creare una contaminazione positiva nelle imprese del territorio. Ci vediamo il 31 gennaio.